Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Quello che preoccupa gli italiani, ma soprattutto anche gli abruzzesi, è questa doppia presa di posizione, quando la mattina si dice che non ci sono problemi per AstraZeneca e poi il pomeriggio invece si blocca la fornitura. Che cosa devono pensare gli abruzzesi fino a giovedì? Io mi baserei un po' su quelli per quanto ci riguarda, quelli che sono state le evidenze cliniche relativamente alle dosi somministrate. L'unico dato è il dato su cui poter fare una valutazione. In Abruzzo fino ad oggi, diciamo che sulle dosi somministrate la farmacovigilanza non ha riscontrato effetti particolari. È chiaro che se l'AIFA o l'Europa decide di sospendere per ulteriori accertamenti questo vaccino, insomma, dobbiamo rispettare questa scelta e attendere che giovedì l'EMA in qualche modo si pronunci e capire qual è il pronunciamento. In Italia verrebbero a mancare quasi 4 milioni di dosi di vaccini. Come si sopperisce a una situazione del genere poi? Intanto adesso ci concentriamo sugli ultraottantenni a livello regionale, ci concentriamo sui fragili nell'ambito della scuola che quindi non avrebbero potuto comunque fare AstraZeneca e devono fare Pfizer e cerchiamo di portare a conclusione tutta la fase 1 con il vaccino Pfizer e Moderna in attesa che arrivi giovedì. So che ci saranno date anche indicazioni per quanto riguarda le seconde dosi di AstraZeneca, questo ci è stato comunicato ieri, quindi attendiamo anche queste novità, notizie, insomma, in merito a questo vaccino. Il problema maggiore forse non riguarda tanto le prime dosi, quando i richiami che vanno fatti e che vanno in scadenza? Sicuramente è un problema, sicuramente è un bel problema, insomma, è un problema che va affrontato e va visto, intanto oggi, stamattina mi sono sentito già con il Presidente Marsilio e comunque la campagna prosegue, va avanti, va avanti con Pfizer e Moderna, ci concentriamo in modo da chiuderle su quelle categorie dove si può utilizzare questo vaccino in attesa, ripeto, di giovedì. Altro credo che non ci sia da aggiungere o da dire, dobbiamo attendere giovedì.